Ciao, buongiorno a tutti. Questa è la lezione di approfondimento sulla pestilenza della guerra del peloponneso. Come vedrete non caricherò dei video di spiegazione di storia perché, come vi dico già anche quando siamo a scuola, storia è sufficiente studiarla. Quindi mi aspetto da voi che leggiate e studiate le pagine che vi assegno e mi contattiate soltanto per i punti in cui ci sono delle cose che non capite bene. Per il resto bisogna studiare le date, i nomi, le successioni degli eventi. Quindi io vi caricherò semplicemente dei video di approfondimento su alcuni punti che io ritengo importanti proprio dal punto di vista di un approfondimento maggiore. Avrete visto che su Google Drive vi ho messo delle fotografie di libri e proprio queste fotografie che devono essere lette e studiate sono appunto degli approfondimenti che noi leggeremo adesso insieme e su cui dirò due o tre cose. Non sono materiale facoltativo, deve essere studiato questo materiale. Ve l'avrei comunque dato in classe, l'avremo comunque studiato e letto in classe. Quindi mi raccomando, se volete stamparvelo stampatevelo, altrimenti mentre ascoltate questa lezione avviate i fogli davanti così che possiate seguire e leggere insieme. Bene, vi ricordate che avevamo parlato per quanto riguardava storia di fonti, ovvero di alcuni storici a cui noi facciamo riferimento, quando ricostruiamo la storia greca e in particolare finora avevamo parlato delle storie di Erodoto. Erodoto, uno storico importante da cui noi attingiamo le fonti principali per quanto riguarda proprio, ad esempio, le guerre contro i persiani. Vi avevo detto che vi avrei portato a vedere invece lo storico di riferimento per il V secolo che è Tucidide. Ho qui il libro da cui io tratto le pagine che vi ho messo, è un librone, sembra quasi un dizionario. Qui sono contenuti tutti gli storici greci, Erodoto, Tucidide e Senofonte. In particolare noi leggiamo una parte di quest'opera che si intitola La guerra del Peloponneso di Tucidide. Andrò a leggerlo, così anche per il DSA sarà più facile seguire quello che andremo appunto a leggere e a commentare alcuni passi. Vi dico anche di sottolineare gli elementi più importanti. Questo approfondimento riguarda lo sviluppo della peste in Atene tra il 430 e il 429 e Tucidide ci va a spiegare un po' come la pestilenza si è diffusa all'interno della popolazione. Mi fa abbastanza così sorridere il fatto che affrontiamo questo argomento in un momento come questo, dove parliamo anche noi di diffusione di un virus. E lo andiamo a vedere da un altro punto di vista, dal punto di vista della pestilenza del 430 a.C. Siamo a un anno dall'inizio della guerra del Peloponneso, che inizia nel 431 a.C. E vi avevo già anticipato che lo stesso Pericle nel 429 morirà a causa della peste. Sottolineiamo, siamo al paragrafo 3 della seconda pagina. Non erano ancora trascorsi molti giorni dal loro arrivo nell'Attica, quando comparve per la prima volta tra gli Atenesi l'epidemia. L'epidemia si sviluppa quindi non tra l'esercito spartano o l'esercito peloponnesiaco, ma si sviluppa tra la popolazione atenese. Tucidide è uno storico atenese. La tradizione ha sì notizia di altre epidemie scoppiate anteriormente in molti altri luoghi, a Lemno e altrove, ma di una peste di tali proporzioni e con così vaste perdite di vite umane non si aveva memoria in nessuna contrada. I medici erano disarmati di fronte a questa malattia, a loro sconosciuta, che si trovarono a curare per la prima volta. Ed erano i più numerosi a morire, quanto più venivano a contatto con i malati. Ne vi era alcun'altra arte umana che potesse domare quel male. Magrado tutte le suppliche nei templi o per quanto ci si rivolgesse agli oracoli e si fatti mezzi, tutto era vano. Alla fine si rinunciò a questi espedienti e l'accasciamento del male prevalse. Gli uomini si riuniscono nei templi, iniziano a sacrificare delle bestie alle divinità con la speranza che le divinità possano propiziare la fine di questa malattia, ma tutto risulta vano. Perché? Perché è una malattia sconosciuta, è una malattia non curabile perché non si comprende la sua origine, quindi tutto è vano, i medici non sanno come fare, le divinità non aiutano la popolazione. Il primo punto di partenza si dice sia stato l'Etiopia, quindi la ricerca dell'origine dove è partita questa epidemia, dice Tuccidide, probabilmente l'Etiopia, oltre l'Egitto, e che poi si è passato nell'Egitto e nella Libia e che abbia invaso gran parte dei domini del re. Il re con la lettera grande significa il gran re dei persiani. Su Atene, sottolineiamo, piombò improvvisa. Primo focolaio di infezione fu il Pireo, porto di Atene. Ci sorprende? No, perché è qui che le navi provenienti appunto dall'Etiopia, dall'Egitto, dalla Persia, arrivano, cioè non arrivano solitamente le merci via terra, ma tramite il porto del Pireo, uno dei principali porti di Atene. Onde ad Atene corse voce che i peloponnesi, guardate, si cerca il capro espiatorio, quindi si attribuisce la colpa di questo male ai peloponnesi, dicevo, onde ad Atene corse voce che i peloponnesi avessero avvelenato le cisterne, cisterne d'acqua. Ancora al Pireo non si aveva acqua sorgiva. In seguito l'infezione raggiunse la città alta, l'acropoli, e la moria aveva ormai preso proporzioni molto più ampie. Su questo argomento ognuno, medico o profano, dica pure la sua opinione. Quando sia probabile che il male sia scoppiato la prima volta e quali ragioni egli ritiene possano aver prodotto una crisi così tremenda. Io ne esporrò i fenomeni e indicherò quei sintomi tenendo presenti i quali si potrà meglio riconoscere il male se mai tornasse a scoppiare. Sottolineiamo l'intenzione di Tucidide qual è? Darò tali spiegazioni perché anch'io ho sofferto questa malattia e ne ho seguito il decorso su altri. Quindi parla per ragion veduta, lui conosce la malattia perché lui stesso è stato vittima della pestilenza. Quell'anno, per constatazione generale, era stato assolutamente immune da altre malattie. E se qualcuno era caduto infermo in precedenza, immancabilmente il suo male si risolvette in peste. Gli altri, senza alcuna causa apparente ed improvviso, mentre fino allora erano sani, erano dapprima colti da forti calori alla testa, febbre, da rossore e da infiammazione degli occhi. Gli organi interni, lingue e faringe, si invermigliavano subito di sangue, si arrossavano, diventavano rossi, esalando un fiato strano e puzzolente. A questi sintomi tenevano dietro starnuto e raucedine. Non passava molto che il male scendeva nel petto producendo forte tosse. Quando il male era penetrato nello stomaco, si avevano nausee e sopraggiungevano tutti quanti gli spurghi di bile che sono nominati dai medici, accompagnati da grandi sofferenze. Nella maggior parte dei casi sopravvenivano con ati di vomito che producevano forti convulsioni. In certi casi, quando le spurgazioni erano cessate, in certi altri anche molto dopo. Il corpo a toccarlo non era all'esterno eccessivamente caldo e neppure pallido, ma rossastro, livido, coperto di piaghe e pustolette. Di dentro invece i malati ardevano tanto che non sopportavano neppure il contatto di vesti e lenzuoli leggerissimi o di qualsiasi indumento. Solo nudi resistevano. Provavano il più gran piacere a lanciarsi nell'acqua fredda. Molti non assistiti saziarono senz'altro questa brama gettandosi nelle cisterne. Pensate, le cisterne dove gli atteniesi attingevano l'acqua per berla perché non c'erano fonti di acqua sorgiva, questi si lanciavano dentro contagiando e contaminando naturalmente tutta l'acqua che veniva bevuta e partecipando alla diffusione del male. Li divorava una sete inestinguibile e bere poco o molto era lo stesso. L'impossibilità di riposare e l'insonnia non davano tregua. Le forze del corpo, per tutto il tempo che la malattia era allo stadio acuto, non venivano meno, offrendo alle sofferenze una resistenza inaspettata. Sicché i più morivano al nono o al settimo giorno per effetto dell'arsura interna, mantenendo fino allora qualche riserva di energia. Se superavano questa fase, il male scendeva nel ventre, dove si formava una suppurazione violenta e, sopravvenendo intanto una violenta diarrea, i più morivano in seguito di esaurimento. Già che il male, che da principio si era localizzato nella testa, cominciando dall'alto, percorreva tutto il corpo e, se si superavano le crisi più tremende, l'attacco del male lasciava le sue tracce almeno all'estremità, poiché erano colpiti anche i genitali, le estremità delle mani e dei piedi. E molti, scampando, perdevano queste parti, alcuni anche gli occhi. Taluni erano appena guariti, che li coglieva un'assoluta smemoratezza di ogni cosa, al punto da ignorare se stessi e i familiari. Il paragrafo 49 è il paragrafo dedicato, cioè, ai sintomi e alla descrizione della malattia. Il carattere della malattia eccede ogni descrizione e, come da altri particolari, risultava che i suoi attacchi erano sempre di una violenza cui la natura umana non poteva contrastare. Così, la prova più convincente del carattere straordinario della malattia fu data da questo fenomeno. Sottolineiamo. Tutti gli uccelli e i quadrupedi che si nutrono di cadaveri, molti cadaveri rimanevano insepolti, o se ne tenevano lontani o se ne mangiavano, perivano. E ciò è confermato dal fatto che questa specie di animali scomparve senz'altro e non furono più visti né presso alcun cadavere né altrove. Tale effetto si osservava ancora più chiaramente nei cani, poiché vivono tra gli uomini. Anche gli animali sono soggetti alla pestilenza e quegli animali che solitamente si nutrono di cadaveri o rimanevano lontano dai cadaveri o, se mangiavano questi cadaveri, morivano anch'essi. Questo era dunque il carattere generale della malattia, benché io abbia tralasciato molti altri sintomi a essa peculiari, per i quali ogni singolo caso si distingueva dall'altro. In quell'epoca non si verificò accanto alla peste alcun'altra infezione di tipo ordinario. E seppure si presentava, si trasformava in peste. Tutte le malattie che sopraggiungevano finivano comunque per tramutarsi in questa nuova malattia, chiamata peste. I malati morivano in parte per mancanza di cure, ma ne morivano anche nonostante la più scrupolosa assistenza. Non si trovò, possiamo dire, assolutamente nessun farmaco di effetto sicuro. Quello stesso che in un caso si rivelava salutare, in un altro era nocivo. Nessuna costituzione, più o meno forte o debole, poteva opporre alcun mezzo di difesa al male, che portava via tutti senza distinzione, con qualunque trattamento si provasse a curarli. Non c'è assolutamente nessun tipo di cura. Sottolineiamo. L'effetto più tremendo in tutta questa calamità era lo scoramento, lo scoraggiamento, quando ci si ascorgeva di essere colpiti. Abbandonavano subito ogni speranza, si ritenevano senz'altro spacciati e non opponevano nessuna resistenza al male. E il fatto che, curandosi a vicenda, morivano di contagio come avviene tra le bestie. Era appunto al contagio che si doveva la più intensa mortalità. Vi ricorda qualcosa? Quelli che per paura evitavano i contatti morivano in solitudine. E molte famiglie furono spazzate via perché nessuno volle far loro da infermiere. Quelli che non li evitavano vi rimettevano la vita. Specie coloro che tenevano a mostrare una certa nobiltà di sentimenti. Spronati dal senso dell'onore, essi rischiavano la propria esistenza visitando gli amici, gli imprudenti che sfidano la malattia andando in giro. Mentre invece perfino i familiari, alla fine oppressi ed esauriti dall'orrore e del male, arrivavano a trascurare persino le lamentazioni sui propri morti. Non seppelliscono più i propri cari morti. A ogni modo, maggiore pietà di questi familiari mostravano verso chi moriva e chi lottava col male, coloro che ne erano scampati per l'esperienza fatta e perché ormai si sentivano al sicuro. Chi sono coloro che si impegnano nell'aiuto degli altri malati? Coloro che sono guariti, hanno sviluppato gli anticorpi e possono quindi aiutare i restanti malati. Già che il male non tornava la seconda volta, o almeno non tornava con l'esito letale. Gli altri li consideravano felici ed essi stessi, nell'esaltazione del momento, si abbandonavano senza riflettere alla vaga speranza che anche per l'avvenire nessun'altra malattia se li sarebbe mai più portati via. Maggior tormento recava ora, in aggiunta all'epidemia, l'ammassarsi della popolazione del contado nella città. È un punto importante questo. Ricordatevi che Atene ha costruito le lunghe mura che mantengono al sicuro il centro della città collegandolo con il Pireo. Tutti gli uomini che abitano il contado, cioè la campagna, al di fuori delle lunghe mura, a causa dell'avvento della guerra del Peloponneso, quando i peloponnesiaci arrivano, cosa fanno questi uomini? Si riversano all'interno delle mura per trovare protezione. E le condizioni igieniche che vengono a crearsi sono scarsissime. C'è una grandissima massa di popolazione all'interno delle mure e questo non fa altro che aumentare la diffusione della pestilenza. E più ne soffrivano i profughi. Non avevano case, vivevano in capanne soffocanti per la stagione e la strage dilagava in cieco disordine. Giacevano alla rinfusa morti e moribondi. Uomini semivivi si trascinavano per le strade ovunque fossero fontane, divorati dalla sete. I sacri recinti, dove i cittadini si erano accampati, erano pieni di cadaveri, poiché la gente vi moriva dentro. La furia del male aveva travolto ogni argine e gli uomini, in balia di un destino ignoto, trascuravano con uguale indifferenza le leggi umane e divine. Ogni consuetudine prima in onore per le sepolture era sconvolta. Ognuno seppelliva come poteva. Molti ricorsero a funerali senza decoro, data la scarsezza del materiale necessario a causa dei molti morti che avevano già avuto. Mettevano i propri defunti sopra roghi altrui, che accendevano prima che sopravvenissero i proprietari. Altri gettavano il morto che avevano portato su di un rogo, mentre un altro cadavere vi ardeva e se ne andavano. L'epidemia diede il segnale al dilagare della scostumatezza in Atene. Gli istinti, prima occulti, si sfrenarono dinanzi allo spettacolo dei rapidi cambiamenti, di ricchi subito morti, di nulla tenenti a un trattore di Tieri. La vita, sottolineiamo, e il denaro avevano agli occhi della gente lo stesso effimero valore. Godere si voleva, in fretta, materialmente. La prospettiva di spendere tempo e fatica per uno scopo degno, quando il suo raggiungimento poteva essere arrestato dalla morte, non attraeva più nessuno. Il piacere immediato è tutto ciò che facilitasse l'arrivarvi. Questo solo appareva utile e degno. Nessun timore divino, nessuna legge umana li tratteneva. E in pietà o religione erano tutt'uno per chi vedeva che tutti ugualmente perivano. E quanto al castigo delle colpe, nessuno si attendeva di viver tanto da scontarle. Ben più tremenda sentenza pesava ormai sul loro capo, e prima che scolcasse l'ora valeva la pena aver vissuto. La gente inizia a comportarsi in maniera del tutto sfrenata. Entrano nelle case, rubano, non rispettano la legge. Tanto non ci sarà tempo per il carcere, non ci sarà tempo per scontare le pene. Insomma, il mondo è in preda al delirio. Tale sventura era piombata addosso ad Atene, e la teneva sotto il suo incubo. E mentre gli uomini morivano dentro la città, fuori delle mura, la terra veniva devastata dai peloponnesiaci. Durante l'inferire del male affiorò come era naturale il ricordo di questo oracolo, che i più anziani facevano risalire a epoca moderna. Guardate come può essere interpretato questo oracolo, e come la gente legga in questo oracolo la previsione di quello che sta allora succedendo. I dori, che erano gli antenati degli spartani, e peste con essa, quindi quasi un preannuncio dell'oracolo di quello che sta avvenendo. Sorse la discussione se in questo oracolo gli antichi non parlassero di peste, bensì di carestia. Ma si capisce che, dato il momento, prevalse il termine peste, perché la gente adattava il suo ricordo alla calamità che attraversava. Ritengo che, se mai sopravverrà un'altra guerra d'orica dopo di questa, e coincida con essa una carestia, secondo ogni probabilità la gente ripeterà l'oracolo in maniera conforme. Inoltre, coloro che ne erano informati ricordarono l'oracolo dato ai lacedemoni quando, alla domanda rivolta al Dio se dovessero fare la guerra, la risposta era stata che, se avessero combattuto con tutta l'energia, avrebbero vinto, e aveva dichiarato che gli stessi li avrebbe aiutati. Si argomentò dunque che gli avvenimenti dessero ragione all'oracolo. L'epidemia scoppiò subito dopo l'invasione dei Peloponnesi. Nel Peloponneso non penetrò con effetti degni di rilievo. Colpì soprattutto Atene, poi anche le altre regioni più densamente popolate. Questo per quanto riguarda l'epidemia. Ritengo soprattutto in questo momento degno d'attenzione questo passo, perché la storia si ripete, siamo in uno stesso periodo simile a questo, certo i sintomi sono diversi, però ritengo che fosse degno di nota questo episodio, così come degno di nota proprio tutto il libro, La guerra del Peloponneso di Tucidide. Mi raccomando, come vi ho detto, se c'è qualche domanda su questo testo o su, come dire, le parti di storia che state studiando in autonomia, scrivetemi. Buona giornata!